Il come stai è sopravvalutato In fondo quante volte ogni giorno ci capita di chiedere come stai? Così distratti mentre facciamo altro, a mezzi sconosciuti che incrociamo per la strada Ohi ciao, come stai? Bene Oppure quante volte ci capita di buttarlo in un sms? Sia uno di quelli che inviamo prima di fare altro oppure prima di mettere il cellulare silenzioso Insomma il come stai è sopravvalutato Pensiamo che basti dirlo o scriverlo a qualcuno per farlo funzionare Ma non è così Senza un po' di tempo da dedicare all'ascolto della risposta non funziona per niente Il come stai ha senso chiederlo solo se siamo veramente interessati alla risposta Sì grazie Altrimenti fa la fine di quei bicchieri di plastica che ci facciamo dare al bar quando compriamo una coca cola da portare via Quasi sempre beviamo dalla lattina Il bicchiere non serve mai a un cazzo Il bicchiere non serve mai a un cazzo